Il progetto di mobilità sostenibile del Ministero dell'Ambiente, il Comune di Alcamo ha aderito. Ora sembra che possa concretizzarsi in che cosa? Il progetto si è già concretizzato perché il Ministero ha risposto qualche giorno fa accogliendo la domanda che il Comune di Alcamo ha fatto assieme ad altri comuni. Consiste nel finanziamento di un progetto di mobilità sostenibile, casa scuola, casa lavoro. Abbiamo detto di un autobus. Noi diciamo che il nostro progetto consiste nell'acquisto di un autobus, di un punto di ricarica perché l'autobus è completamente elettrico e nell'acquisto di 10 paline che sono la segnaletica che viene messa in prossimità delle fermate dell'autobus con le indicazioni del caso e poi di alcune zone 30 km orari da mettere in prossimità delle scuole. Questo diciamo assieme agli sforzi che il Comune farà per individuare quelli che poi sono i dipendenti che svolgeranno il servizio all'interno dell'autobus, dovrebbe finalmente dare quel minimo di trasporto pubblico che è ancora un po' presto, forse per chiamarlo così, diciamo un bus navetta che si muoverà all'interno della città nei punti più importanti. Per vedere i risultati concreti, quanto tempo dovrà passare? Perché abbiamo capito che ci vuole il personale, ancora queste cose devono essere acquistate? Sì, siamo in questo momento proprio all'inizio, il Ministero ci ha dato conferma, quindi adesso noi dovremo fare un progetto più di dettaglio, penso che a metà anno il progetto potrebbe essere a prendere vita in maniera concreta. Abbiamo parlato più volte di mobilità sostenibile, tante iniziative, però anche delle critiche che vanno dalla viabilità di Alcamo che non è agevole, lo street control che molti dicono potrebbe essere magari attuato dopo, perciò mobilità sostenibile però anche critica sostenibile. Le critiche quando si parla della mobilità di Alcamo secondo me sono sempre in qualche modo necessarie perché non soltanto l'amministrazione deve essere correttamente anche comprensibilmente criticata per le scelte che fa, ma tutti quanti dobbiamo chiederci e criticare le scelte che ogni giorno facciamo perché soltanto con l'aiuto di tutti, cambiando anche un po' quelle che sono le nostre abitudini, cercando di utilizzare i mezzi nella maniera più opportuna, tenendo conto della larghezza delle nostre strade, dei parcheggi che abbiamo a disposizione, tenendo conto del codice della strada e certo poi chiaramente anche l'amministrazione deve muoversi e deve dare delle soluzioni che possano essere concrete. Creare delle alternative? Creare delle alternative per esempio in questo caso con un autobus completamente elettrico che quindi è anche poco inquinante, anzi per nulla inquinante e poi anche con i parcheggi a pagamento quando arriveranno e quindi si deve, però è sinergico, deve essere l'amministrazione da un lato ma devono essere anche i cittadini un po' a essere critici nei confronti di quelle che sono le cose che vengono normalmente fatte, le abitudini che abbiamo.